Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotico Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico Anche questa puntatona dal colore scrittura creativo La progettazione narrativa dei grandi autori di fantascienza A.C. Clarke Words of If 1958 Fuori dal sole, out from the sun Fabula Racconto corto, seppo sin sopra i capelli di Infodamp Con trama banale Sull'avvistamento di un UFO che atterra su Mercurio Dalla parte assolata di Mercurio Utile caso studio su come non mettere troppa Infodamp in un racconto Senza che questo serva per portare avanti la trama Narratore interno focalizzato sul personaggio principale Forma Un racconto di fantascienza corto Un utile caso studio su come non usare l'Infodamp Dato che l'Infodamp di Clarke non fa procedere la fabula L'Infodamp fornito da Clarke non fa cadere cose e non spiega i rapporti di caso effetto nella fabula Ma Clarke con la sua Infodamp allunga solo la broda Perché non si sarebbe potuta appunto fare più corta la fabula Per questa puntata è tutto Un saluto Ciao Alla prossima Bye bye